foto a coverciano che vi volevo far vedere come è andata questa giornata insomma siete tornati bambini beh mi ha convocato a me a me a edoardo ci ha convocato a gas ma non perché c'è che in realtà poi perlomeno io credo anche per loro è così coverciano l'hai sempre sentita nominare ma non sai bene dove sta sta coverciano che non si capisce bene come se fosse sollevata dall'italia invece sta dentro firenze invece siamo stati lì e in campo cioè non è che alla fine no ma noi non abbiamo visto tutti gli altri no nel senso che poi alla fine però la cosa bella è stata che abbiamo visitato il museo del calcio abbiamo visto della roba incredibile e comunque stavamo lì con roberto mancini con tardelli con cabrini voglio dire con con io sono rimasto colpitissimo dall'educazione cioè mancini ti avvicina sapeva i nomi di tutti buongiorno massimiano benvenuto a coverciano tardelli educatissimo loro sono così c'è noi venivamo da un viaggio in treno dove tutto il senso tutte queste situazioni del cinema uno pensa il cinema la cultura invece poi tra attori si sentono delle cose allucinanti poi tu vai da questi sportivi sono tutti educatissimi parlano tutto italiano cabrini educatissimo tardelli educatissimo cioè li vorrei avere a casa che mi servono la colazione vorrei avere ecco un de napoli che mi fa che ne so la cena posso dire una cosa qual è stata la cosa del museo che vi è rimasta più impressa di coverciano a me la maglietta di tardelli che sta dentro una bacheca la maglietta di portiere di zoff nel 78 che aveva le maglie della lana come quel maglione che io ci vado a sciare perché era inverno lì capito era proprio di lana una cosa quando la vedi da vicino perché la vedi in televisione un po' ma quando era proprio il maglione della lana grigio e lui col numero uno a vederla c'era una cosa incredibile immagini quelle magliette quando si bagnano che zoffo per tuffarsi ci metteva infatti credo siano magliette che si bagnano per sempre e sono inasciugati invece io sono rimasto colpitissimo dall'unica maglietta della nazionale che abbiamo avuto verde verde come no e questa cosa mi ha rapito un attimo il cuore io ricordo io sono un grande grande collezionista di figurine io posseggo delle figurine cartonate con quattro giocatori azzurri con la maglia verde rarissime e in una di queste c'è rececconi il grande rececconi grande giocatore della ragazzo sfortunatissimo che indossa sta maglia verde e sono rarissimo visto ora su ebay che le vendono di 40 euro così io me le tengo te li tieni là non me le tengo no te li faccio vedere impazzisci no allora risposte velocissime che abbiamo poco tempo allora cultura pop in questo film ce ne sono tantissimi riferimenti agli anni 80 allora non guardare le domande che non vale torna su torna su allora chi è stato il vostro video sportivo degli anni 80 bruno conti marco tardelli franco baresi oggetto cult per il quale impazzisciate negli anni 80 guardare oggetto cult in realtà per me erano gli scarpini e le pantofola d'oro per me il cubo magico per me il commodore 64 brano musicali che adoravate negli anni 80 danza in the dark bruce princeton shout the tears for fears sono indeciso ma io sono stato rettoriano e duraniano per cui mi sono diviso tra due panorami musicali completamente diversi la rettore e il duran pensa che cultura musicale che avevo duran che canzone sceglierebbe dei duran probabilmente rio seppure oppure no angry like the wolf film o tre film che vi faceva più negli anni 80 happy days happy days anche l'unico io devo dire happy days che però se la batteva molto con morch e mindy allora cinque domande veloci di calcio rapidissime allora edoardo roma monci nel mirino cosa ne pensi no ma io guarda questa roba non ci posso credere allora poi potete anche dire no comment dai facciamo no comment però so cicco almeno una risponde resterà a mano lass e perché hanno messo la clausola recissoria così bassa e questo lo ti chiede a monci ok quindi no comment fai esatto no comment prima totti ha smesso resta comunque nell'organigramma della società secondo te non ha un ruolo un po troppo marginale in questa in questo club adesso non ci sarebbe bisogno di un totti un po più presente sì io lo farei rigiocare se di quelli che lo metterebbe ancora in campo dei rossi allenatori lo vedessi bene ma magari un giocatore e un uomo che mi piace mi piace proprio particolarmente passiamo a tognazzi allora che succede qua in crisi da errore e volontà di rivalza per cui bisogna capire se diventa e ostinazione perché si è ostinato a farlo quindi bisogna capire se è una cosa che si porterà avanti o se è veramente sbloccato perché insomma da come ha reagito all'ultimo gol che ha fatto sembra uno che si che si vuole sbloccare è vero che prenderesti iguain e lo preferiresti perfino a cristiano ronaldo e a messi no non prenderesti per il milano chi ibraimovic a ibraimovic ibraimovic per carattere si dispiace solo che adesso tolto messi per esempio anche su cristiano ronaldo il milano è arrivato primo ma siamo arrivati sempre nei momenti sbagliati dove c'era che chi decideva che non ha avuto la prontezza e poi comunque la forza economica della juve superiore quale giocatore riprenderesti dal passato del milano per farlo giocare nella squadra di gattuso per noi milanisti è veramente molto difficile per cui io dovrei mettere su tutti i baresi e maldini ma come rinunciare a van basten e via di a via di seguito è molto complicato il giocatore del milano che non venderesti mai attuale attuale sento troppe voci che mi infastidiscono molto ma io non darei mai via nessuno del settore giovanile che è cresciuto con te primo quindi donna ruma calabria eccetera eccetera anche suso che mi sembra fondamentale in questo momento max non ti sei un po annoiato a vincere sempre in italia da simpatizzante gioventino no non ci si annoia a vincere sai è tutto pareggiato dal fatto che non vincendo in europa l'italia diventa un modo per soffrire di meno ti sei dato un pizzicotto quest'estate per credere veramente che cristiano ronaldo era venuto alla juventus me lo sono dato perché non pensavo che sarebbe mai stato possibile pensavo a una roba di giornalisti e invece era vero testo per vedere quanto sei superstizioso questo è l'anno buono per la champions della juventus no è l'anno buono per l'ottavo scudetto di fila allegri il miglior tecnico che la juve abbia mai avuto no non credo sicuramente il più fortunato a trovare una squadra talmente superiore alle altre in questi anni da poter vincere e vincere bene ultima domanda tognazzi e leo come si fa a convincere un ragazzo giovane di oggi di sette anni più o meno a non tifare per la juventus ma non è così difficilissimo di prendere un dvd di totti e non dei gol ma dei passaggi perché grazie a dio la storia di questo sport non è fatta solo da vincenti è fatta dal mito il mito non è sempre vincenti sono grandi vincenti che resteranno poco nella storia sono dei perdenti sono rimasti straordinari poi sono persone che rimangono in una specie di limbo perché sono giocatori adorati da tutto il mondo pur non avendo vinto tantissimo e poi c'è una categoria a parte che è padorin no io credo io credo che non sia solo quello è chiaro che quando si vince una squadra è più facile che catturi la suggestione però ci sono anche i bastian contrari e soprattutto ci sono le tradizioni di famiglia che vengono tramandate e poi comunque io ho sempre pensato che il calcio è veramente un colpo di fulmine che diventa una malattia ti innamori di due colori non sai nemmeno tu bene perché indipendentemente da dove sei nato da qual è la tua origine da dove sei cresciuto e in genere quella passione per quei colori per quella cosa te la porti avanti tutta la vita infatti per esempio la squadra che ha meno affezione è un po' la Sampdoria perché ha più di due colori e quindi non piace innamorarti di due colori ma senti hanno i colori bruciacchiati i rosso cruciati sono e blu come si dice blu bianco nero e rosso non ce ne stanno due infatti i genoani sono di più allora la fase di calcio mi raccomando andate al cinema il 10 gennaio a vedere la nazionale attorica donne portate i mariti al cinema per vedere non ci resta che più ragazzi c'è poco da fare fino al 17 avete non avete giustificazione avete due weekend liberi senza partite sì c'è stata una supercoppa che tanta vincono loro ha tanti cari auguri piuttosto grazie auguri anche a te no no veramente tanti 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 auguri a voi grazie grazie non ci resta che il crimine dal 10 gennaio grazie mille ciao calabria alla prossima